segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te allora professor boeri gli italiani sembrano apprezzare l'accordo con l'albania ma dietro questa comunicazione che cosa si nasconde che cosa c'è un'operazione di pura propaganda che non ha alcun effetto reale se li avesse sarebbero costosissimi per l'italia perché basta fare due conti conti che non sono stati fatti chiaramente dal presidente meloni lei ha detto che si potranno portare 36.000 persone in albania questo non è vero perché l'accordo prevede che non ci possano essere più di 3.000 persone in ogni momento in albania e noi sappiamo che anche le amministrazioni che sono più efficiente nel valutare le richieste d'asilo ci impiegano almeno almeno nella migliore delle ipotesi 12 mesi quindi questi 3.000 persone che saranno in albania saranno per tutto l'anno avremo non più di 3.000 persone all'anno che andranno in albania probabilmente ancora di meno perché poi se in qualche modo la loro domanda non viene accettata possono presentare ricorso a quel punto i tempi diventano ancora più lunghi non solo ma una volta che questi se ne andassero per tornare a riempire quei posti bisognerà intercettare delle persone al di fuori delle nostre acque territoriali nelle navi militari selezionare soltanto le persone adulte anziani che non siano in gravidanza mi chiedo come si potrà valutare se una donna in gravidanza o meno quindi tutto questo sono tutti dei requisiti che devono essere soddisfatti e a fronte di tutto questo ci sono dei costi molto alti perché dovremmo costruire due centri magari ristrutturando anche dei centri esistenti costruire delle abitazioni per i poliziotti albanesi per i nostri anche addetti alla sicurezza per il personale di questi centri che deve essere italiano e per le commissioni che dovranno andare in loco per valutare tutto per poi e per gli spostamenti e per gli spostamenti delle navi militari naturalmente che devono andare e tornare quindi è un'operazione che entra in campo a primavera del 2024 siamo alla vigilia delle elezioni europee il sapore della propaganda obiettivamente è molto forte magari poi ci stupirà questo governo ma se riescono a processare 36 mila casi di richiesta di asilo in e di protezione in un anno va bene allora andiamo tutti in albania albania caput mundi perché insomma sarebbe la rivoluzione globale proprio senta credo che la che la presidente del consiglio sia molto contenta dei paletti che ci ha imposto l'europa perché darà la colpa all'europa per il fatto che questa operazione fallisce diciamo che